Qual è la diarrea acuta? Quando una persona ha un aumento di feci e le sue feci sono sciolte acquose, si dice che abbia la diarrea. Se una persona ha queste feci sciolte, acquose, spesso più di tre volte in un dato giorno, e questi sintomi durano meno di due settimane, le feci frequenti sono generalmente chiamate diarrea acuta. Spesso, la diarrea acuta è causata dall'infezione da virus, batteri o parassiti e il paziente può aver bisogno di lasciare che l'infezione faccia il suo corso senza cure mediche. In alcuni casi, tuttavia, i sintomi possono essere gravi o persino pericolosi e un paziente può aver bisogno di un trattamento con farmaci prescrivibili o liquidi per via endovenosa, IV. Per molte persone, avere più di un movimento intestinale al giorno è normale, alcune persone hanno movimenti intestinali fino a tre volte al giorno, per esempio. Mentre un individuo può pensare di avere la diarrea se passa spesso le feci, potrebbe sbagliarsi se le sue feci sono di consistenza normale. Tipicamente, la diarrea è definita come movimenti intestinali di consistenza acquosa e morbida che si verificano più di tre volte in un giorno. Se una persona normalmente passa le feci tre volte alla settimana, tuttavia, e improvvisamente passa due feci acquose in un giorno, questo può essere considerato anche diarrea. Se le feci molli di un individuo durano due settimane o meno, si dice che abbia una diarrea acuta. Nella maggior parte dei casi, una persona che ha una diarrea acuta si sviluppa perché il suo corpo è stato infettato da un virus o da un batterio. A volte le infezioni parassitarie causano anche una diarrea acuta. Nella maggior parte dei casi, una persona può aspettarsi che la diarrea acuta diminuisca dopo un giorno o due mentre il corpo combatte l'invasore che l'ha provocata. In realtà, la maggior parte delle persone non ha bisogno di alcun intervento medico per recuperare da esso. Dopo un paio di giorni, le feci di una persona tornano normalmente alla normalità da sole. Se la diarrea acuta si protrae per più di un paio di giorni, il paziente può essere a rischio di disidratazione. Per evitare ciò, si consiglia spesso alle persone di consumare liquidi che aiutano a sostituire minerali e sali vitali, chiamati elettroliti, persi attraverso la diarrea. Infatti, una persona può persino acquistare bevande elettrolitiche e schiumarole appositamente progettate per questo scopo. Se nonostante questi sforzi un individuo diventa disidratato, potrebbe dover essere ricoverato in ospedale per il trattamento. Spesso, questo comporta la somministrazione di liquidi attraverso una flebo. A volte la diarrea acuta è grave o dura più di pochi giorni. In tal caso, un medico potrebbe aver bisogno di trattare il paziente con una prescrizione di farmaci. Ad esempio, gli antibiotici possono essere prescritti per il trattamento di alcune infezioni che causano la diarrea acuta. Ci sono anche farmaci che possono essere utilizzati per fermare la diarrea, ma spesso prolungano l'infezione che ha causato i sintomi. Come tale, i medici hanno meno probabilità di prescriverli. Grazie. Grazie. Grazie.